Oppan Gangnam Style Gangnam Style Salve a tutti ragazzi sono Inzio96 e mi è più venuto in questo video aggiornamento veloce 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 è meglio subito dirvi scusate se non ho caricato video questi termini ma ho avuto tanto tanto da fare e in più sono sossi sotti altri problemi che scusa se mi sentite la voce bassa ma come sempre ho il mal di gola allora vi devo solo dire che inizieranno 4 nuove serie più una che già è in continua diciamo allora la serie con i cugini continuerà normalmente però non trovo il tempo e neanche l'ora per registrare quindi è un po' un problema poi creare un'altra serie con cg1 su minecraft normalissimo su una mappa normalissima solo che aspetterò la uscita della 0.6 della pocket edition quindi inizierò quando deciderà la google a rilasciare questa nuova versione un'altra serie che inizierò è invece con cg1 e con un altro nostro amico tbob lo conoscerete quando inizierò la serie e va bene forse ci sarà anche un quarto sì sì però poi vediamo e poi un'altra serie che inizierà erano 4 perché ah un'altra serie che inizierà è single player io finalmente farò un single player tutto mio e poi un'altra serie che inizierò è un'altra serie che inizierò che cos'era ah sì farò un hardcore con 6 persone tutti insieme naturalmente non ognuno per sé e cercheremo di sopravviare il più possibile tutti quanti chi muore è morto punto la serie se la guarda su youtube vi fornirò oltre e veri dettagli prossimamente su rai 1 faccio pubblicità occolta e vabbè per adesso questo video aggiornamento è tutto se nemmeno farò uno un po' più avete capito più dettagliato su tutte queste nuove serie però per adesso è tutto ciao a tutti